Amici miei, l'avete sentito questo pugno devastante, pazzesco Vi ricordo che questa sera come tutti i giorni sia alle 13.30 sia alle 23 da adesso in poi Fino all'11 marzo ci alleneremo su Warzone tutti i giorni alle 13.30 alle 23 per il Twitch Rivals di Warzone Quindi dobbiamo iniziare a fare solo 2 vs Squad Così eriamo preparati, così vinciamo 75.000 dollari Quindi siateci Amici miei, oggi video che finiscono male 2 Siccome questo video vi era piaciuto, cioè in senso erano finiti male ma vi era piaciuto Cioè era un video che è andato bene nonostante siano finiti male i video Oggi siamo qui proprio perché il nostro fruitore di contenuti ha detto che voi mettete adesso mi piace subito Proprio in questo momento, ma soprattutto perché Andiamo a vedere un po' di cose che sono successe in giro per il mondo questa settimana Siccome è molto bello questa settimana Jinfei, vediamo Ok, una palla medica Quella palla medica ragazzi sapete che serve? La palla medica serve perché poi appunto è medica e quindi vai dal dottore dopo Ah che bella battuta, Sormi sei una Anzi no, non ve la faccio vedere Però l'ho spoilerata sul canale viola Allora siamo in terra di cheater Terra di cheater Allora vediamo Questo è come parcheggio in i cheater Perfetto Perfetto, perfetto, perfetto Eh buongiorno, questa è una rapina Buongiorno, favorisca Ok, benissimo, anche il tergicristallo, perfetto Buongiorno Buongiorno Buongiorno, non si apre, non si apre la porta Chi è che mi ferma? Buongiorno, buongiorno, buongiorno così Perfetto, perfetto Terra di cita ma non vengono bannati Allora siamo in America del Sud Cioè negli Stati Uniti del Sud Vedete che camminano nel Perfetto Ok, doppietta Questo è chiaramente un 2V squad Si inizia male, si inizia male Lui che voleva salvare la ragazza Ci ha rimesso anche lui il cu No, lui si è rotto le p***e La ragazza si è rotta la schiena Benissimo, ma stanno tutti bene per fortuna Stanno tutti bene Tempo di covid insomma E quindi è necessario mantenere le distanze Anche perché poi succedono cose brutte Questa cosa è stata recepita in maniera corretta Secondo me è da questa persona Perfetto Che si allontana da uno zombie Uno zombie Va de retro signora Si allontani Tipo Alla The Walking Si allontani Vabbè, però c'ha ragione ragazzi Magari quello è monodepresso C'era la signora che scorreggiava Anche perché il covid Sapete che è anche dalla fuzzetta Niente, niente, niente Evidentemente Ha avuto paura giustamente Cristiano Malgiogli Ma procediamo Allora, eccoci qui Siamo in Russia Che cosa c'è di impressionante in questo video Macchine Cioè no, non è vero Non siamo in Russia Siamo in America Siamo in America Ma c'è qualcosa di strano C'è qualcosa di strano Questa è una corvette Con il martello Con il martello con tor Quindi è una torvette Papere Ma procediamo Ok, allora Siamo in America questa volta C'è il Perfetto Immaginate fare Tutta questa strada Per delle birre Che poi ti cadono a casa Con la neve Tu mi hai messo le catene alla macchina Per andare a fare la spesa Ti si rompono Perfetto Lui ha mareggiato Se ne va Ma procediamo Siamo in un'autostrada Ungherese Perfetto 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 Tutto nella norma Torno all'indietro Perfetto 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 Ottimo imballaggio Ottimo imballaggio United States Airlines 328 Ah, questo qua è il video Questo qua è il video Di una telecamera nascosta Che ha ripreso I pezzi di un jet Di un jet Di un aereo Che era partito Da qualche parte Negli Stati Uniti Che perdeva pezzi Cioè tu immagina Se muori Perché ti cade Un pezzo di un aereo Che sta volando Con la probabilità Più zellosa del mondo Perfetto Non è successo niente Non procediamo Allora Siamo qua sempre in America In America No, Brittany Qua siamo in Grab Britain Siamo in Inghilterra Perfetto Eccoci qua Perfetto 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 Ma andiamo avanti Siamo sempre qua in Qua in Su Tirolo Su Tirolo Trash la basura Uì L'ha fatta la basura Siamo in Spagna Allora Non è proprio su Tirolo Ma anche in Spagna Ci sono gli orsi Perfetto 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 Mamma Non andrò mai più A buttare la spazzatura Cioè non vivo con mia mamma Però fatele questo ragionamento Potrebbero esserci gli orsi In giro Vicino alla spazzatura Molto 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 Pericoloso Perfetto Che cosa succede Ovviamente Perfetto Vedete uno spazzino L'orso spazzino Gli rumori strani Che sentite più o meno Le 4 di mattina Quando vi vengono a ritirare La spazzatura Non sono persone vere Sono orsi Come questo Pericolosissima Ma quella porta È magica Ed eccoci qua Eccoci qua Allora Eccoci qua Amazon Perfetto Ecco Oh Perfetto 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 Questa Ecco come viene Fatta la consegna Della frutta Tramite DHL Perfetto Allora siamo Questo è un gatto Cheater Un gatto Che piange Veramente Cuto Veramente Cute Signor Si può dire Cute Anche se la pronuncio Sbagliata Si o no Si si può dire Quindi dirò Cute Come no Non si può dire Si Non si può dire Va bene Cute Eh ragazzi Che devo fare È per passura Allora siamo In A scuola Ok Controllo di sicurezza Con il borsone Vediamo che Che succede Quella borsa Secondo me c'è qualcosa di strano Qualcosa che Cosa di illegale Subito Bollino rosso Perfetto Perfetto C'è qualcosa di strano Però in tutto questo Secondo me Lui è passato Dentro la Il metal detector 200 IQ Devastante Brillante La brillantezza Questo succede Quando usi Il 100% Del tuo cervello Io non l'ho mai fatto Procediamo Siamo qua Sempre in In Inghilterra Zona Inghilterra Con la neve Ok C'è qualcosa di strano Neve Rotelle Pavimento ghiacciato Scarpe da ginnastica Signori Qua qualcuno Mi sta trovando Un frigo Pagato Fior fior di soldi Anche perché Come sapete Perfetto 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 GG 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 Veramente molto buono Infatti Avete visto Il compare Che Il compare Che saltella Felice Di quello che è successo Perfetto Un disastro Procediamo Rivediamo Ma è vi Ecco Allora Cosa succede Quando appunto Voi magari Rimanete In macchina No E non sapete Come aprire la porta Perché le chiavi sono fuori Siete tutti chiusi Mi raccomando Chiudete Le vostre portiere Eccetera Accendete L'accendino Ma solo Con la parte del gas Dopodiché Accendete una sigaretta E succede Questo Perfetto Tutto nella norma Come la macchina Dello zio Tommy Nella campagna Se ve la ricordate Ok Volpi Con la musica Della Di Paperissima Veramente divertente Veramente Perfetto 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 E ruba Una scarpa Quindi Cosa abbiamo imparato Da questo video Mai lasciare le scarpe Procediamo Benissimo Scantina Non vedi che hai rotto la scala Imbecille Ah ma è una roba comune E il letto è stato messo lì apposta Perché la gente cade Di solito Perfetto Ah ma è un susseguirsi Di scale rotte Niente Niente Immaginate cadere Tutte le volte Dalle scale Tutti i giorni Per tutta la vita Sono sempre gli stessi Tra l'altro Sono sempre gli stessi Che Ok questa è la versione Senza 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 letto Insomma Benissimo Procediamo Lui Ogni volta Devi Niente Ogni volta Devi pregare E sperare Di non cadere Da questa scala Della morte Ma c'è un susseguirsi Intenso Di persone Che cadono Di nuovo Di nuovo Ok perfetto Lui questo è ricaduto Questa volta Con delle forbici in mano Ma non si è fatto nulla Perfetto Ok adesso In due Ottimo 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 Questa è la scala Degli ubriachi Ha sbattuto contro il frigo Ma tutto bene Tutto bene Tutto bene Questa credo che sia Una delle case più scivolose Del mondo Probabilmente Vediamo Ma com'è possibile Ma com'è possibile Cadere sempre Allora credo di aver capito Forse quello è il problema Non la scala Ma forse Forse sono le persone Forse Potrebbe essere Quello anche Il problema Forse Il sale Per evitare Il problema Dello scivolamento Perfetto Ok E ora so Perché il sale È finito giù Lui deve scendere In qualche modo Niente No evidente No niente Se hai rotto il gomito Benissimo Il sale doveva finire giù Ma niente Anche lui sotto Benissimo E ora il problema Sarà risalire la china Allora altro ghiaccio Come sapete Il ghiaccio In alcune zone del mondo È Invalicabile Se non se vi ricordate Perché ci sono le persone Secondo i terapiatisti Che vivono Su queste montagne di ghiaccio Ai confini del mondo Proprio per questo motivo Perché sono gli unici Wow ok Un'ottima idea Perfetto Un'ottima idea A utilizzare la propria macchina Per farsi investire A macchina ferma Ok Questi sono Appunto I amici miei Bentornati In questo unissimo video Particolare Ma chi è? Ma perché Ma perché Migor Sa quando io sto registrando? Signori miei E con terribile disappunto E con estrema amarezza Per il nostro Migor Underscore 16 Io vi ringrazio Per aver visto questo video Vi ricordo Che questa sera Siamo in live Alle 23 Per allenarci Per il Rivals Di Warzone Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate dal secondo canale Ve lo lascio qua sotto In descrizione E dal gruppo Telegram Perché trovate sempre Qua sotto in descrizione Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Cliccate sulla campanella Per trasformare questo canale In una chiesa Noi ci vediamo In un prossimo video Woo Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie per la visione!